Chi non muore si rivede. Ciao a tutti. Oggi nuova recensione trash, totalmente a sorpresa, perché tra le mie mani è capitato un libro che mi avete richiesto in massa, ma proprio è da mesi che ricevo sta richiesta di recensire questo libro, e più me lo chiedevate, meno credevo che fosse possibile la sua esistenza, semplicemente per il fatto che mi sorprendeva l'idea che ci fosse altro da scrivere, e in effetti, ma arriviamo al dunque. Il libro in questione è Le nostre emozioni, di Iris Ferrari. Prima, le dovute premesse. Allora, io ho già recensito un libro dell'autrice, una youtuber e muser o tiktoker, come si chiamano adesso, che non si chiama più Musical.ly, super famosa in Italia, molto giovane, spigliata, carina, educata, dolcissima, su questo siamo d'accordo. Voglio essere, però, esplicitare questa cosa che sarà noiosa per tutti, sul fatto che nelle recensioni trash non attacco gli autori, cioè critico i libri, parlo di libri, quindi la recensione è del libro. Non me ne frega niente di chi l'ha scritto, cioè può scriverlo Peppino Di Capri e va bene uguale. Con gli autori trash ci prendo anche i caffè e molto spesso mi ringraziano delle recensioni trash, cioè quelli che hanno un po' di sale in zucca e hanno passione per il trash. Va bene? Anche perché lo dico, non solo per annoiarvi su questa parte inutile, perché tanto i commenti trash arriveranno lo stesso nel caso dei libri di youtuber. E mi fa solo piacere perché ho del materiale prezioso per la mia rubrica, reagisco a commenti negativi. Ma qua voglio farlo perché, aneddoto insulso, ho scoperto che era stato fatto un video su YouTube da una misteriosa follower di questa youtuber che ha completamente tagliato delle parti del mio video in modo che sembrava che dicessi altro. E l'ha intitolato tipo, ma tu fu magari l'insulta Iris Ferrari e la casa editrice? Ma quando mai? Insomma tutto mi ha fatto ridere il fatto che uscissero tipo delle foto, l'ho visto tipo mille anni fa, comunque uscissero delle foto di lei stupenda e di me così che dicevo cose tagliate male, si capiva che ce l'hanno dei tagli. E poi quando parlava della casa editrice faceva vedere l'interno del Mondadori Megastore, cioè proprio la libreria. Cioè le differenze, cioè differenze tra Mondadori Megastore e Mondadori casa editrice, ma frega cazzi di chi abbia pubblicato un libro. Cioè è chiaro l'intento della casa editrice, infatti non c'è un'accusa, cioè capisco il perché. L'editoria è un pozzo di squali, è difficile sopravvivere, quindi lo capisco. Però giustamente noi siamo dei lettori e come tali dobbiamo affrontare ciò che è massacro. E quindi le nostre emozioni. Perché questo libro mi ha scatenato delle perplessità? Perché l'ho letto? L'ho letto perché pur avendo letto una di voi e non avendolo ritenuto, nonostante dei picchi altisonanti, uno dei peggiori libri trash, capitati sotto i miei occhi perché era banalmente una brochure, non è un libro, è una brochure per i follower della youtuber in questione, mi sorprendeva che ci fosse un altro libro. E allora ho dato per scontato che fosse un romanzo, perché come fai a fare un'autobiografia di nuovo quando l'hai fatta l'anno scorso sui tuoi primi 15 anni di vita? Cioè una biografia dell'anno dopo? Poi ho scoperto che non era un romanzo, grazie a Dio. E allora le nostre emozioni pensavo, come anche dichiarato in parte, che fosse una raccolta tipo di aneddoti tratti dal blog tour, dal tour lì, di una di voi. Perché alla fine questi libri vengono fatti apposta per fare i tour, i firmacopie, lo sappiamo bene. C'è gente che non vuole sentire la verità, ma la verità è questa, non c'è nulla da fare. Non che ci sia nulla di male, ma almeno dichiararlo e non spacciare certe cose per letteratura. Ho letto questo libro e sono scontento e contento allo stesso tempo, perché sono contento nel vedere che comunque la scrittura sia nettamente migliorata, mentre la precedente aveva dei picchi di delirio cosmici. Ad esempio mi ricordo che in un discorso che sembrava non c'entrare niente c'era un delirio pseudonimalista, del tipo, i cani, ai festival cinesi, cosa? Quello lì era la mia parte preferita. E soprattutto c'era la prefazione di Francesco Sole, che era la cosa più trash dell'intero libro. Cioè la parte di Iris Ferrari era tranqui, la prefazione era top, top, era il motivo per leggerla. Qua non c'è alcuna prefazione, purtroppo, e quindi diciamo che questo libro, che cos'è alla fine? Io credevo fosse una sorta di fuma cupido su carta, ed ero pronto a sferragliare il mio sisugolo, però in realtà è un remake identico del primo libro, epurato dal trash. Quindi la lettura che si fa è totalmente innocua e non lascia niente, almeno a me, perché invece sono contento del fatto che Iris abbia cercato di fare un libro propositivo. Nel senso, vedete che io dico anche le cose positive, che ha tentato di dare degli insegnamenti positivi ai follower piccoli che la seguono. Quindi questo assolutamente ok. Cioè come libro, per chi segue la youtuber, benissimo, va bene. Il problema è che si potevano tranquillamente fare dei video sui temi che tratta, anche perché costa 16 euro, e lo si legge in 10 minuti, perché è ancora meno ricco di contenuti del primo. Quindi di che stiamo a parlare, obiettivamente? Allora, di trash dicevo che non c'è quasi niente, tant'è che io a una certa ho smesso di prendere appunti, e ho sottolineato semplicemente le parti più inerenti a questa rubrica, ecco. Perché è un libro strutturato esattamente come il primo, e come qualsiasi libro degli youtuber, quindi c'è sempre il capitolo sulla famiglia, il capitolo sugli amici, il capitolo sulla scuola, il capitolo sull'adolescenza, il capitolo sull'amore. Sembra la versione, un filino più matura, del libro di Sofia Dalle Rive, ma senza le 50 pagine di outfit a caso, ok? Quindi, la prima parte tratta proprio di tutta l'avventura riguardante il libro, ed è quella dove ho segnato più cose. La prima volta che ho cercato di scrivere qualcosa di concreto, non saprevo a cosa sarei andata incontro. E non immaginavo minimamente quanto vi sarebbe piaciuto. A me no, faccio il trasgri a caso. Tutto questo grazie a una di voi il tour. Quindi, per il nostro secondo libro, perché lei dice sempre il nostro libro, ho raccolto tanti vostri pensieri, e mi sono resa conto che le sensazioni che provavo sono le stesse, perché l'adolescenza accomuna tutti quanti. E anche solo sentire che non siamo soli a vivere determinate emozioni ci può far restare meglio. E in effetti è proprio questo l'obiettivo del libro, raccogliere, diciamo, i problemi cliché dell'adolescenza, e cercare di dare dei consigli utili. Quindi, da un punto di vista progettuale, è positivo, ripeto. Il problema è proprio che è un libro usegetta. Cioè, mi spiace definirlo così, ma è la verità. Cioè, una volta che l'hai letto, basta, cioè, nel comodino per tutta la vita. Cioè, è sicuramente più contenuto questo rispetto al libro dei Valespo, per nominarle uno, che è un delirio ora la classifica dei libri, perché al primo posto è arrivato questo, e i Valespo al secondo. Quindi immaginiamo... Io non apro più la lettura, per esempio, a vedere la classifica, perché c'ho l'ansia. Però, vabbè, dobbiamo capire in che mondo viviamo. Poi c'è il libro di Fabrizio Corona, la 3, quindi ciaoone, bella zì. Comunque, quindi Edela Ferrante, sei l'unica che è sopravvissuta nella top ten, resisti, te prego. Comunque, questo anno è stato pazzesco. Il 20 febbraio 2018, quindi un anno fa, esatto, in tutte le librerie d'Italia è uscito una di voi, il nostro primo libro. Vi avevo tenuti sulle spine per diversi mesi, mettendovi tantissima ansia. Non dirlo a me, quanta ansia. Con un countdown infinito, come è accaduto anche per questo secondo libro. Non so nemmeno descrivere la sensazione che ho provato nel vedere concretizzato il mio sogno. Ancora di sogno si parla. Un sogno abbastanza vago, in realtà. Che, io l'ho già parlato nella prima recensione, ci sta. Capisco la felicità, però, bisogna anche capire a cosa corrisponde questo sogno. All'essere riconosciuti, ai lustrini, al glitter, tutto molto bello. Però, nel concreto, dove si va a parare? Questo l'avevo parlato anche nel primo. Non mi delungherò su questa cosa. I mesi di lavorazione, di scrittura, di attenzione per ogni dettaglio, di selezione delle mie foto. Devo dire che, comunque, ripeto, la scrittura è migliorata. Appena ho annunciato, è subito top, top of the pops. Appena ho annunciato il pre-order, prima ancora che uscisse, una di voi è arrivata prima in classifica su Amazon. E poi c'è il drama. Oh no, la prima tappa del firmacopie è stato uno pseudo-flop. In realtà no, perché comunque, ovviamente, è successo, fama, bellissimo, però, è iniziato l'una di voi tour, con il firmacopie in piazza Duomo. Ero davvero molto agitata. Oltretutto, la situazione non era tra le migliori. In contemporanea, c'era una manifestazione politica, proprio sotto al balcone della Mondadori, che mi ha impedito l'affaccio sulla piazza. Tipo, il Papa, come l'affaccio sulla piazza? Tipo... che sognavo di fare per potervi vedere tutti assieme. E vabbè, quindi, grande bestseller, premio strega, arrivamo, ce la facciamo. Poi, mi ha fatto ridere un sacco la pagina 22. Io non so se è un problema della mia copia o se effettivamente è così, ma il paragrafo rimane sospeso. Cioè, non so se è una tecnica narrativa del tipo ha avuto un mancamento, era talmente emozionata che ci siamo persi nel limbo, perché abbiamo cercato di essere presenti in quasi tutte le regioni di Italy. Non c'è Italia e il punto, la frase, scomparsi nel nulla. Comunque lei dice di non farle regali perché i regali, vi prego, di non spendere più soldi per farmeli. Siete voi il mio regalo più bello. Fantastico. Siamo rimasti primi nella classifica generale dei libri più venduti in Italia. Oltre a quella di varia. Quella varia. Ho capito cosa intende la non-fiction sostanzialmente. Per undici settimane consecutive. Un record assoluto. Che poi lei è carinissima, mi sta simpaticamente. È una ragazza molto matura. Io l'apprezzo, però c'è questi libri perché continuano a farli? Io cioè è una cruciata praticamente. Vabbè, comunque diciamo che adesso parte le varie sezioni tematiche e qua mi sono reso conto ma caspita ma questo libro è inutile perché è il rifacimento del primo uguale solo tolto il trash. Quindi se avesse fatto uscire questo e basta senza il primo cioè era uguale uguale ve lo giuro infatti c'è il capitolo sui genitori che è molto più sentito infatti lei racconta senza peli sulla lingua anche le difficoltà che ha avuto nell'infanzia si è molto aperta questo io ne devo dare atto perché sicuramente sarà d'aiuto verso i follower più giovani e quindi questo l'ho apprezzato devo ammetterlo parla anche del rapporto con i nonni nonni con cui era molto legata che purtroppo ora non ci sono più nella sua vita e anche questa parte è nulla da dire nel senso ho apprezzato il fatto che si aprisse tanto da questo punto di vista a livello di scrittura è migliorata ma siamo proprio sul confine del tema della prima superiore cioè non andiamo oltre è scritto meglio di tanti libri di youtuber questo sì cioè ad esempio quello di Valespo che è scritto come un finto video cioè io ho ancora gli incubi di notte per dire questo almeno ha una prosa diciamo e andando avanti ho sottolineato una parte in cui dice sostanzialmente il messaggio positivo del genitori non proibite internet ai figli perché ormai non si può vivere senza però è importante documentarsi e guidare i figli affinché abbiano un uso consapevole di questa tecnologia benissimo se me lo avesse vietato non avrei potuto realizzare tutti quei sogni meravigliosi il red carpet della felicità che sono diventati realtà o avremmo corso due rischi o che mi sentissi infelice o che lo facessi nascosto senza sicurezze ma i sogni che diventano realtà adesso per questa frase dico milioni di ragazzine si metteranno a fare i musicali sperando nel successo vabbè comunque quando pensate a me cosa vi viene in mente il mio sorriso giusto quando vi chiedo cosa pensate quando cosa pensate quando pensate a me e dovreste rispondere al trash grazie 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 comunque a caso lei fa tutto questo discorso motivational che ci sta ma pratichiamo sport ma come tipo viviamo la natura corriamo nei prati poi pratichiamo sport ve lo dice la persona più pigra al mondo da piccola ho fatto tantissimi sport ma mai seriamente allora predichi bene ma razzoli male lo sport è salute e quello di gruppo dà anche possibilità di creare amicizie con chi è la nostra stessa passione oltre che mantenerci in forma e farci sentire più belli bene poi parla delle sue debolezze lei rivela di essere estremamente timida e di riuscire a superare questo suo grosso ostacolo anche attraverso il dialogo con i fan i video su youtube quindi ok ma c'è una cosa che mi ha fatto molto ridere perché ci sono delle foto di lei da bambina che è molto pensosa sta lì così tipo solo pensoso e la didascalia vi giuro cioè io ho capito cosa intendeva dire però amo introspettiva fin da piccola e io me la immaginavo allora me la immaginavo non tanto che sia una solitaria tipo introversa se mai ma introspettiva mi ha dato subito l'idea che lei stava lì a quattro anni che senso ha la vita l'esistenza solo una macchia sporca di una condizione trasparente dell'esistere nei nostri anni più feroci e poi scomparire perché si vive solo per morire eh sì adoro fantastica comunque andando avanti sì la timidezza poi c'è il valore dell'amicizia un capitolo su cui non ho nulla da dire si capisce che lei è molto legata ai suoi amici fino a una parte che devo mettere le mani avanti allora lei voleva fare un discorso molto bello però è uscito con delle ambiguità che magari io sono un po' bacchettone però trovo evitabili ad esempio dice ci sono anche i miei amici maschi a cui piacciono quelli del loro stesso sesso ne alcuni sono davvero dei migliori amici ok sono fantastici intanto hanno una sensibilità superiore sono affini a noi femmine sotto questo aspetto e sono fedeli sinceri e per nulla invidiosi ma il cliché del gay sensibile cioè proprio dare qua c'è anche da capire se lei si riferisse effettivamente agli amici che ha e allora a come si comportano loro o ai gay in generale cioè dire siano molto affini a noi femmine tutti i gay del mondo cioè proprio entrare nel cliché sprofondare nell'abisso cioè sta parte obiettivamente andava scritta meglio per poi arrivare a una frase che ho detto caspita questa è super bella per il lettore e poi c'è una c'è una chiusura che ho detto ma cosa vorrei voluto dire per dire nel 2019 ci sono ancora preconcetti verso chi è considerato diverso ma diverso da chi dove sta la normalità bellissimo discorso e poi nel seguire il branco ma come nel seguire il branco cioè allora io ho capito cosa intendeva però nel seguire il branco dà quasi l'idea magari sono io che sono bacchettone ma mi ha dato quasi l'idea sotto testo che intendesse è un po' ma si andiamo controcorrendo ci piacciono le persone dello stesso sesso andiamo controcorrente no non è una moda che cavolo però so che non è quello che voleva dire capisco capisco anche che queste parole vengano da una sedicenne abbia fatto un discorso di questo tipo a prezzo top però però essendo scritto in un libro eh mi raccomando all'uso delle parole le parole sono importanti poi magari l'ho interpretato male io ripeto però nel seguire il branco quando si parla di sessualità mi tengono i brividi ecco poi parla dell'amore lei parla del fatto che comunque lei non cerchi l'amore effettivamente lei non lascia cadere brava Iris questo è il primo comandamento del fumacupido quindi sono fiero di te lei racconta di due esperienze tragiche che ha avuto uno che è sparito l'altro che ha mollato su messenger e insomma lei è ancora all'attesa del grande amore va bene o bella zì cioè ok va bene poi parla di scuola perché ve l'ho detto che questo libro è strutturato come l'altro uguale e se non è così strutturato l'altro un altro libro di un altro youtuber è strutturato così ve lo giuro quindi parla di scuola dice che comunque ci fa bene che bello ok ma lei dice anche che aveva scelto sin dall'elementare di fare liceo artistico per poi dire di aver cambiato scuola anche per il fatto che quasi tutti i ragazzi sono ribelli nell'abbigliamento negli atteggiamenti nello stile mi ha ricordato tipo tontessa di after quando va al college e dice forse questa scuola non è stata la scelta giusta gente con i tatuaggi con i piercing come farò oh no il magico mondo delle feste poi immagino tipo le feste dei liceali del primo di 14 anni perché lei parla del primo anno in un artistico cioè sarà cosa sei riunione a parlare di visual art e bacardi briser mentre si ascolta chi le lauro cioè questo mi immagino come concetto differenso tutti quelli dell'artistico cosa dice Matteo però io se facessi ora a 14 anni l'artistico farei subito meeting per parlare di arte cultura filosofia visual art performance art queste cose lì però ammettendo sottofondo Sfera e Basta e Achille Lauro e sorseggiando Bacardi Briser come fosse whisky fantastico io adorerei invitatemi se è vero che è così comunque ora basta allora perché praticamente il libro è quasi finito praticamente ok cioè si conclude con una lettera che Iris scrive a se stessa quindi è la sé sedicenne che scrive alla sé di mille anni dopo e what the fuck cioè doveva essere il nostro libro però si conclude con una lettera non è chiara la struttura con cui è stato scritto non è chiaro l'intento perché poi lei parla a se stessa si parla e ovviamente dice come al solito sei riuscita a realizzare il tuo sogno quale? allora ci sta che stai vivendo un sogno effettivamente cioè è troppo bello troppo strano troppo moda però ogni volta che chiedo che mi chiedo quale non trovo risposte cioè perché si intende il sogno dello youtuber che è il concetto di sogno che viene promulgato da tutti gli youtuber il mio concetto la mia domanda il mio dubbio esistenziale è sempre quale sogno? e mi aspetto una risposta di una parola che che non portare avanti la tua passione in cosa? cioè non lo so sono vecchio io forse non lo so fatto sta che ovviamente c'è anche l'idea del sei riuscita a superare tutte le persone invidiose che ti criticano a mo sta cosa basta cioè basta andiamo avanti per poi arrivare a un regalo per voi e ho detto ok per l'adolescente che leggerà questo libro top però allora praticamente il libro è arrivato a 131 pagine ok però avevano ancora le pagine bianche quelle che servono per la rilegatura per stampare perché non so se lo sapete quando si stampano i libri ci sono del tot di pagine standard più o meno e solitamente vengono lasciate le pagine bianche in fondo quando sono di troppo ok e in questo caso un regalo per voi delle pagine bianche su cui scrivere i vostri appunti per parlare al vostro io del passato lo io del futuro quindi per aggiungere pagine in più salta 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 arriviamo alla 138 ora dopo l'uscita di una di voi sono molto più consapevole del fatto che tutto ciò che ho scritto entrerà nelle vostre camere che incubo posso immaginarvi immersi nella lettura di questo secondo libro a ridere piangere piangere e sentirvi parte del nostro mondo bene e così finisce la nostra avventura con le nostre emozioni un libro che per quanto riguarda Iris Ferrari molto meglio del primo secondo me non è neanche così trash è innocuo cioè lo leggi dici ok per una dodicenne va bene non è non è così pessimo lei comunque dà dei consigli giusti quasi sempre è come è come l'amica che ti parla dei problemi di cuore sostanzialmente ok però innocuissimo e costa 16 euro e come al solito è una brochure per i firmacoppie una brochure non è un libro è una brochure let's face it guardiamo la realtà dei fatti è detto ciò basta sono esausto vi saluto fatemi sapere la vostra sempre con eleganza e sinosità e se non lo sarete finirete nella reaction ai commenti trash ciao ciao